Bella vittoria perché è venuta giocando non la nostra migliore pallavolo, però abbiamo fatto tre punti su un campo difficile con ragazzi molto bravi e siamo molto contenti soprattutto per il finale di quarto set che siamo riusciti a portare con un paio di belle azioni dalla nostra. Quindi tre punti ottimi per finire bene l'anno solare e adesso ripartiamo con i prossimi impegni casalinghi al massimo.